Abbiamo stuzzicato il progetto di Biscontini in più occasioni, l'uscita dalle virate è eccellente, molto reattiva, veloce. Anche quando abbiamo sbagliato e abbiamo provato a entrare nell'angolo morto è bastata una piccola puggiata affinché la barca riprendesse immediatamente velocità e prestazioni. Un progetto davvero ben riuscito per quello che riguarda l'organizzazione della coperta e sicuramente le linee della carena. Premianti!